Anna Gaia Va bene, io l'ho già detto, mi chiamo Anna Gaia e sono un'attrice, sono veneta, sono lesbica e sono sempre stata discriminata, perché sono veneta. E quindi io in realtà oggi vorrei parlare un po' di discriminazione e paradossalmente mi collego a questo bellissimo intervento perché la discriminazione parte dalle parole ed è una cosa su cui sto da molto tempo riflettendo, come ci stava dicendo appunto i greci dicevano che noi non conosciamo le cose ma solo le cose che sappiamo nominare e quindi è per questo che i geologi hanno un sacco di parole per le rocce, gli schimesi per il ghiaccio e i veneti almeno cinque tipi di spritz. I bambini non riescono a dire io fino ai tre anni perché non sanno che cos'è io, io da brava veneta ho imparato prima a dire spritz per esempio e quando sono riuscita a dire io la mia identità non era fondata sul fatto che ero una bambina che aveva la pelle bianca o che ero italiana o veneta, io potevo anche essere un gufo ed essere verde, per me la mia identità era legata a tutti quelli che andavano alla scuola materna contro tutti quelli che potevano mangiare e dormire fino alle undici e poi quando ho capito il noi, per me il noi è arrivato verso i nove anni perché andavo al mare e eravamo il gruppo del mare, eravamo un gruppo di dieci di varie età che si ritrovavano in una località dell'Adriatico sotto Marina Lido che veramente eravamo, cioè solo noi dieci in tutto il mondo perché più che altro tutto il mondo se ne fotteva di sotto Marina Lido, cioè era un luogo talmente inquinato che già negli anni 90 i pescatori erano vegetariani, quindi quando uno andava in acqua diceva addio e moriva, cioè eravamo gli unici bambini che i genitori mandavano a fare il bagno anche subito dopo mangiato perché dicevano vabbè tanto more guai, per me ecco quella era la mia patria, era il noi ed era il luogo più bello del mondo. In questo senso le parole determinano le cose, per esempio la parola straniero, io la prima volta che l'ho sentita avrò avuto dieci anni in questa escalation di conoscenza dell'universo ed è stata mia nonna a dirmelo, mi ha raccontato che un giorno lei in bicicletta, mia nonna è veneta chiaramente di Mira, andava in giro per Mira si è scontrata contro un vecchietto di un paese vicino, Miraporte, sono finiti uno sopra l'altro con le bici sopra di loro, questi due ottantenni incapaci di muoversi, momenti di panico, in attesa che qualcuno li aiutasse a raccogliersi, mia nonna gli dice scusa ma da dove sei o elo? E il vecchietto risponde e mi so di Miraporte! E mia nonna e non poteva starsene casa sua straniero! Così è stato chiaro che nella vita bisogna sempre scendere nelle barricate, come si dice la prima volta che ho sentito la parola lesbica, avevo 16 anni e stavo facendo il gioco della bottiglia e a un certo punto la bottiglia si ferma su di me e poi sulla più bella della scuola che si chiamava Manuela e allora uno dice e no però non la puoi baciare perché se no vuol dire che sei lesbica, io che sono un'ipocondriaca penso a una malattia mortale e svengo. Manuela che faceva lo psicopedagogico, che è una cosa veramente anni 90, lo psicopedagogico aveva dei rudimenti di primo soccorso, quindi mi fa la respirazione bocca a bocca. Io rinvengo e svengo varie volte, però chiaramente nel dubbio quella sera vado a casa dalla mia confidente personale che era mia nonna e dicevo nonna ma scusa ma secondo te io sono lesbica? Mia nonna fa no no amore tu sei solo un poco bresbite. Però ho capito in quell'occasione che se la parola lesbica veniva usata male poteva essere un insulto eppure io in quell'occasione avevo conosciuto il desiderio, il desiderare, si dice come raggiungere le stelle con Manuela e per questo che quando noi usiamo delle parole, per le parole noi dobbiamo avere rispetto, che letteralmente rispettare vuol dire guardare due volte, guardare meglio. Io non vi dico quanto ho rispettato Manuela tantissimo e soprattutto perché ho capito lì che la mia vita fino a quel punto era stata una vita in bianco e nero, l'amore mi ha fatto scoprire una vita a colori e l'amore tutti provano le stesse gioie, gli stessi dolori, è proprio una legge che a differenza della legge è uguale per tutti e in questo senso conquistare le parole e conquistare le cose, non necessariamente conquistare Manuela, comunque ci tengo a specificarlo. Negli anni il movimento, quello che si parlava prima, il movimento LGBT ha conquistato una serie di parole, la mia preferita non è una parola, è un simbolo, è il più, non so se avete sentito ultimamente si parla di LGBTQ+, più vuol dire tutti gli altri, che secondo me è una cosa geniale, cioè noi siamo la prima minoranza che comprende una moltitudine, capito? E la cosa divertente è che la moltitudine non sa neanche che fa parte del nostro movimento e questa è la cosa più geniale di tutte, perché poi, ma veramente sembra un assurdo, ma è così, che voglio dire adesso noi siamo vicini, adesso non so alla situazione a Pavia però a Milano dove le persone sono libere di sentirsi e di essere quello che gli pare, io veramente di esterosessuali non ne conosco quasi, è una cosa, è vero e non ce ne sono, ma veramente c'è escono sabato sera col passamontagna, non sono terroristi, sono eterosessuali libera uscita, hanno paura che li riconoscano dall'ufficio, io mi sono rimaste due amiche etero, due sono rimaste etero, davvero, mi chiamano sabato sera piangendo, disperando, e una me la sono anche fatta, non ti spaventare, adesso ci sei anche tu nel movimento, hai capito? C'è anche il più, LGBTQ+, ma perché poi c'è questo più da cosa originale, c'è l'importante, perché è importante che siamo tutti dentro a questo movimento? Perché è un movimento che parla dell'identità, le nostre identità è in mutamento, è in trasformazione, e tra queste parole che riguardano il mutamento e la trasformazione c'è la parola gender, adesso c'è il gender, allora io vi dico, la prima volta che ho sentito la parola gender sarà stata cinque anni fa, ero in tournée nelle Marche, a Civitanova Marche, e fuori da un palazzo c'era uno striscione con scritto più gender, meno gengiviti. Vabbè, io penso, sarà una roba, un colluttorio della zona, così, mettiamola lì, passano gli anni, tre anni fa sarà stato più o meno, improvvisamente, una mattina, io non so cosa è successo quella sera, ma una mattina tutti parlavano del gender, tutti, tutti avevano un'opinione del gender, che io dico, quando se la sono fatta? Nella notte? E io pensavo, ma che cazzo di problema hanno le persone con Civitanova Marche? Che poi c'è, breaking news, gender vuol dire solo genere in inglese. E tu dici, ma perché noi italiani siamo così? Cioè, prima era solo una parola, poi è diventata in inglese una teoria, e non è successo niente, non esiste la teoria gender, perché la teoria di genere non esiste, ce ne sono molteplici, quindi quando qualcuno vi dice che ha un problema con la teoria del gender, l'unico problema che ha è di informazione. No, è grave, però, perché poi è su questo che si originano altre cose, no? Nel senso che la teoria gender è servita per gettare discredito su altre parole. Per esempio, la parola famiglia, che potrebbe essere inclusiva, quando è diventata famiglia arcobaleno, con la teoria di gender è diventato che le famiglie arcobaleno, per esempio, non esistono, no? L'abbiamo sentito, quindi io per lungo tempo mi sono chiesta, cioè, ma se noi non esistiamo, noi le tasse le paghiamo, non le paghiamo, perché io me la risparmio, se no questa cosa, no? Oppure qualcuno dice, no, gli omosessuali, per esempio, distruggono le famiglie. Cioè, allora, magari qualcuno pensa che non abbiamo veramente niente da fare, che aspettiamo dietro gli angoli delle porte che passino le famiglie eterosessuali con i figli per fare, così, però, questo chiaramente genera delle parole di odio. Per esempio, a me, una persona, una signora mi ha scritto su Facebook, c'era una foto di me con la mia ex fidanzata, che ci baciavamo, e scrive, ma che schifo, come fai a baciarla, fate schifo, e poi non che la vedono i bambini, e poi siete anche grasse. Va. Io ho detto. Allora, io l'ho scritto, guardi, cortesemente, se lei mi dice dove vive, io vengo con lei a parlarne in maniera tu per tu, anche perché, tra l'altro, a me sembrava veramente incredibile che potessi sparlare con qualcuno della mia ex, finalmente. E comunque ho detto, guardi, tra l'altro, se non me lo dice, comunque lo scoprirò, perché oltre a essere un'attrice, a essere disoccupata, sono anche single ora. E quindi, però, ovviamente, quindi cosa succede? Il termine famiglia. Un termine, una parola da conquistare, famiglia, nel senso che noi abbiamo grandissime sovrastrutture su questa parola, perché la mulino bianco ha fatto dei danni inenarrabili. E quindi io, quando ho cercato di capirci qualcosa sul termine famiglia, la prima cosa che ho fatto è stata chiedere alla mia nonna, che aveva la famiglia, la famosa famiglia patriarcale di una volta, no? Allora, chiedo a mia nonna di parlarmi della sua famiglia. Erano otto fratelli, giusto? Una volta erano otto fratelli, con tre dei quali non si parlano più per ragioni sconosciute a loro stessi. Poi c'era la zia Pina. La zia Pina aveva avuto un bambino di colore dopo la guerra e per guarirlo si era trasferita in Piemonte. Malattia incurabile perché il bambino era rimasto di colore e particolarmente portato per l'inglese americano. Poi c'era la zia Adelaide. La zia Adelaide era di una bruttezza rara, ma cuccava da Dio. Non si sa come. E lei era fanatica della famiglia dei Bortolotti. Si era fatta tutti e tre i fratelli e poi aveva sposato il più giovane, che si chiamava Ultimo. Perché i veneti sono fantasiosi, capito? Così. Lui era morto 30 anni prima di lei. E lei si era sposata con un cugino dello zio Ultimo. Perché lui era Ultimo, ma non l'ultimo dei Bortolotti. Pensate che una volta un tizio per farsela ha detto che era un Bortolotti e lei nel dubbio c'è stata. No, poi c'era mia nonna in tutto questo quadro familiare. No, poi c'era lo zio Nino. Vabbè, lo zio Nino che lui è stato scapolo fino agli 75 anni, no? E quindi se lo passavano le varie sorelle. Che, immagino voi lo capiate, una volta si chiamavano scapoli, adesso si chiamano gay. Lui è evidente che era gay. Si capiva anche dalle foto, anche se loro non volevano accettarlo. No, ci sono proprio quei gay che si vede dalla foto che sono gay. Cioè, il mio migliore amico sulla carta di identità è messo così. Poi c'era mia nonna e la zia Maria, la più giovane di tutte, perdutamente innamorata di un prete per cui ha fatto la perpetua per 70 anni della sua vita. Temo per entrambi senza consumare. Perché l'amore è amore, ma quella era una famiglia timorata di Dio. Poi sono arrivata io, con la mia famiglia, mia mamma si è spodata, ha avuto un'unica figlia, i miei genitori sono due persone particolari, si amano da 45 anni. Una cosa rarissima. Però, avendo solo me come figlia, ovviamente erano due persone molto apprensive, quindi loro per fortificarmi, per dire, mi gettavano in acqua senza salvagente e mi salvavano solo all'ultimo. Io non ho mai imparato a nuotare, ma ho capito molto presto cosa significa probabilmente morire. E questo chiaramente ha segnato la mia vita futura. Allora, queste sono le varie storie delle famiglie. Dopodiché, cosa succede in una famiglia composta da due donne? È niente, è una famiglia, come dire, uguale e diversa a tutte le altre. Certo, ci sono delle differenze, non è che io non dico che non ci siano delle differenze. Per dire, se entra in casa uno scarafaggio, nella famiglia eterosessuale lo sai come funziona. Lei dice a lui, non fai un cazzo, almeno uccidi lo scarafaggio. Però uccidilo senza ammazzarlo, senza fargli male, senza sporcare. Perché? In una famiglia di due donne cosa succede? Entra lo scarafaggio, no? Una urla, l'altra urla, poi una comincia a parlare, l'altra comincia a parlare e dopo cinque minuti lo scarafaggio si è rotto i coglioni e se ne va da solo. Tra due gay mi hanno detto che funziona così, che uno urla, l'altro urla e la casa la vendono. Però, quindi questa sicuramente è una differenza. Poi certo, poi mi dicono, ah ma chi è che allora tra due donne, quando stanno assieme due donne, chi è che fa il barbecue? Questo ultimo residuo di questo avamposto dell'eterosessualità contemporanea. Io non lo so quanti uomini qui fanno il barbecue. Voi fate il barbecue? Eh? Tu temi il barbecue? È un momento di confronto importante con la propria virilità. Lei fa il barbecue? Certo! Non potevamo che avere un esemplare che fa il barbecue. Allora, quindi, cosa succede? Tra due resbiche, io veramente, io non lo so chi fa il barbecue. Mi sono detta, forse è quella con i capelli più corti. Però, dico, non è che magari si è bruciati facendo il barbecue. Non lo sai. Tra due gay, fortunatamente per loro il problema non si pone perché il barbecue lo usano come porta candele. Quindi, certo, ogni famiglia ha le sue dinamiche. Non vi dico poi nel pieno di un trasloco perché un trasloco tra due donne, immagino voi lo potete immaginare, non è un trasloco. È un esodo. Quattrocento paia di mutande, quattrocento paia di calzetti, quattrocento paia di scarpe a testa. Noi veramente nel pieno di trasloco sembra di vivere nella succursale di intimissimi il giorno dei saldi. Che io quando ho fatto il trasloco praticamente non mi ha aiutato quasi nessuno perché ho quasi tutti i amici gay e un gay durante un trasloco accende la radio e canta. Pure si mette sul letto e comincia a dire come farai? Quanto c'hai da fare tesoro? E' così. E quindi, certo, queste possono essere delle differenze sostanziali ma quella più incredibile di tutte è questa. Che proprio noi, ai quali qualcuno sostiene che non siamo delle famiglie visibili o reali, noi donne siamo in realtà le uniche che stanno assieme per sempre. Perché le donne sono fatte così, due donne prima di lasciarsi ne parlano e passano diversi anni durante i quali tornano insieme. Quindi in realtà le uniche famiglie destinate a rimanere nel futuro sono quelle composte da donne. Ed è questo il punto. Ma il punto, e qui mi chiudo, mi piace moltissimo Alan Bennett che diceva ogni famiglia ha un segreto e il segreto è che non è come le altre famiglie. E quindi per scoprire qual è la nostra famiglia o quella delle altre mi ricollego al fatto che possiamo usare le parole, scardinarle e rivendicarne ogni volta con la loro contestualizzazione e la loro esistenza perché dentro ad ogni parola si nasconde il segreto della nostra liberazione. Grazie. 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 Grazie.